Come nasce questa proposta? Perché? Allora, intanto in questi 200 anni qui sono un momento molto importante per la nostra congregazione che si dedica, come sappiamo, come apostolato all'educazione. Quindi Don Pietro ci ha lasciato questa grande eredità di porre mano all'educazione per la riforma del mondo intero. Ci sembrava che ci mancasse un momento, diciamo così, che avesse uno spessore culturale abbastanza preciso e di qualità che fosse aperto a tutti gli educatori di tutta la nostra città ma anche delle nostre case tipo Reggio Emilia, Modena, Como, Massa e Carrara che offrisse la possibilità di ripensare a noi adulti come educatori di fronte a una realtà nuova che è quella dei ragazzi di oggi che appunto vengono chiamati nativi digitali. Ma come istituto come vi ponete di fronte a queste nuove sfide? Anche come cristiani siamo chiamati a vivere dentro questa realtà, dentro questi ambienti informatici in modo nuovo, guardando la realtà con gli occhi dei nativi digitali che vuol dire da una parte imparare da loro ad usarli in modo corretto e dall'altra vuol dire offrire come adulti quella significatività della vita che magari proprio ai ragazzi manca.